I lavori per la nuova Tura che entrerà nell'alveo del Brenta sono già iniziati sulla riva di Angarano. Gli operai della Income infatti hanno quasi finito di rimuovere i muretti e le ringhiere che si trovano lungo il fiume. Questo sarà infatti un varco da cui entreranno prima le ruspe che costruiranno la Tura, ossia la strada diga che porterà fin sotto la terza e quarta stilata del Ponte Vecchio da restaurare, esattamente come era venuto con le stilate verso il centro città. L'attenzione dei dettagli è tale che nella demolizione dei muretti gli operai stanno salvando i mattoni rimossi uno ad uno per poi riposizionarli al termine dei lavori. Un'opera certosina e rispettosa della città che fa ben sperare per una seconda parte del restauro che va davanti come la ditta subentrata a Vardanega era riuscita a fare rispettando i tempi per le stilate 1 e 2. I camion entreranno da via Colombare percorrendo via le Scalabrini saltando invece via Angarano. Scompariranno anche alcuni parcheggi per agevolare il passaggio dei mezzi. I lavori sono iniziati con alcune settimane di ritardo per via della piena del Brenta che sta scendendo proprio in questi giorni.